Ciao a tutti, in questo video vedremo insieme come collegarci a un account G Suite in qualità di studenti. Questo video è pensato per gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Fagagna, ma è adattabile a tutti gli altri istituti che si dovessero imbattere in questo video girando su internet. Allora, la prima cosa da fare è digitare nel browser un indirizzo email, un indirizzo di un servizio di Google come per esempio può essere gmail.com. Una volta digitato questo indirizzo potremo trovarsi davanti a diversi scenari. In questo caso sono entrato in automatico in un email che però non è quella dell'Istituto. Se vado a vedere su questo pallino, premo e capisco che sono entrato con un account Gmail personale magari di un altro membro della famiglia che utilizza il computer. Per cambiare account devo appunto cliccare su questo pallino e andare a scegliere la voce Aggiungi un altro account. Mi proporrà una lista degli account disponibili. Questo è il secondo scenario che può capitare quando si scrive gmail.com che ci proponga una lista di account disponibili. Se non è già presente qui il nostro account con cui vogliamo entrare, dobbiamo cliccare sulla voce Utilizza un altro account. E questo è l'ultimo scenario che potrebbe configurarsi già da subito quando si scrive gmail.com, cioè che il sito ci propone di inserire l'indirizzo email del servizio che ci è stato dato dall'Istituto. Nel caso dell'Istituto complessivo di Fagagna bisogna scrivere l'indirizzo corrispondente al proprio primo nome, se ce n'è più di uno, punto il proprio cognome, sempre se ce n'è più di uno, chiocciola atelier.icfagagna.edu.it e successivamente premere avanti. Se si tratta del primo accesso, la password che vi è stata assegnata a tutti gli studenti è Fagagna 2020. Possiamo controllare con questa icona a forma di occhio se abbiamo scritto tutto corretto, infatti ho fatto un errore, vado a correggere e premo su avanti. Vi viene proposto di accettare il contratto di servizio che la scuola ha già sottoscritto e ha controllato che sia conforme a tutti i requisiti per la vostra privacy e poi il nostro sistema ci propone di inventare una propria password che va inserita due volte nello stesso modo per essere certi che l'abbiamo digitata correttamente. La password deve essere lunga almeno 8 caratteri, si consiglia di mettere una password non facilissima. Per gli studenti che fossero la prima esperienza di inventare una password posso consigliare di per esempio scegliere il nome del proprio animale domestico che però è un po' troppo semplice oppure ancora meglio del proprio animale preferito, del proprio piatto preferito, eventualmente mescolare qualche numero e successivamente cercare di ricordarsi questa password anche perché per essere recuperata non si può fare da soli ma bisogna nel caso in cui la si dimentichi contattare l'istituto agli indirizzi che sono indicati nella sezione didattica digitale del sito. Tornando a noi quindi la password è preferibile non annotarla ma se sono le prime volte annotatela in un posto sicuro oppure potete annotarvi un suggerimento per esempio la password è il mio animale preferito e quindi magari sappiamo che è la giraffa. Una volta cliccato su cambia password entreremo nella nostra Gmail che sarà nuova di Zecca e che ci consentirà di accedere ai servizi che l'istituto ci offre. Per passare da un'app all'altra di G Suite si può cliccare su questo tasto con 9 quadratini e quindi passare ad esempio a Classroom che si usa molto nella didattica digitale oppure altri servizi a seconda di quello che i docenti vi richiedono. È possibile accedere a tutti i servizi della G Suite anche da dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Bisogna in quel caso installare le rispettive applicazioni quindi per esempio Gmail per accedere alla posta oppure Classroom per utilizzare le Classroom. Anche in quel caso vi verrà chiesto di inserire le credenziali e la procedura è piuttosto simile. Bene con questo è tutto vi auguro un buon lavoro.